amici cari amici belli dello svapo come va tutto a posto qua è tutto a posto un video veloce velocissimo non voglio fare quello altro non voglio fare ci vapate per cose particolari oddio non ci vapate ma faccio perché mi fa sempre piacere ma perché faccio questo video perché anche io mi sono incapricciato come tanti a seguito dei vari video che abbiamo avuto il piacere di vedere di andrea di altri che hanno fatto riguardo al vcmt questo magnifico atomizzatore che effettivamente garantisce una svapata quasi uguale quasi pari a quella di un buon atomizzatore da dripping come per esempio può essere menzionato il re secondo me degli atomizzatori da dripping che è il pentagli e che io veramente lo chiamo stupenda mi piace mi soddisfa va benissimo anche se potendo coppa una batteria fedendo in questo momento perché poi dovrò regolare bene il pin centrale affinché lo potrò sfruttare su questo altro stupendo tubo questa stupenda creazione degli amici della castro voglio parlare del vcmt perché voglio dire questo dal mio modo di vedere mio modesto pari l'ho comprato anche io preso dalla scimmia famosa ci mancherebbe ci divertiamo anche noi effettivamente ai primi due tre tank che ho riempito che ho fatto con una resistenza di 030 si 030 028 due alcol evidentemente si andava bene però perdiva qualche goccia dai fori dell'aria perché in realtà la base è molto simile alla base degli atomizzatori come il sub tank per esempio c'è questa ghiera attraverso la quale si regola l'aria si parzializza l'aria e io praticamente tenendola tutta quanta aperta quando facevo delle belle svapate con una dopo l'altra doppia e triplet tranquillamente il lato messo rende bene non ci sono mai come giustamente hanno detto tutti e la realtà lo confermo anche io ma un po' di perdita io l'ho notato probabilmente dovuta anche a come si mette il cotone va bene questo proprio sarà davvero questa cosa davvero ma perché voglio dire io sto facendo questo video in questo momento per dire che cosa che innanzitutto l'ho dovuto smontare in tutte le sue parti ho tolto anche il center pin il pin centrale il center pin questa vite che ora vi mostrerò scusate allora qua si dovrebbe vedere quelli che sono i pezzi che compongono questo benedetto atomizzato e va così il questa vite centrale come pare che si chiama i center pin c'è il pin centrale quello lungo che va a fine sopra che va poi ad agganciarsi alla parte che stacca dove poi esce da qua e si avvita questo la torretta evidentemente con le due viti la prima cosa che vuoi dire queste viti sono delle viti veramente fetente cioè non ho mai trovato anche in alcuni cloni che mi sono passato per le mani parliamoci a materiali così fetenti soprattutto la brugoline che esce accorrito vuoi dato ad avarista brugoli c'è una brugola praticamente di ferro fetente tutta sorta che si spunta si spana perché una brugola ce l'hai non è questo il discorso è che le viti stesse poi di materiale fetente si sono spanate in fretta e sono dovuto ricorrere a quelle che ci sono effettivamente accorrito va detto in questa bella bustina che esce accorrito nella quale bustina ci stanno usacchi guarnizioni o ring c'erano queste quattro viti che io già ho messo adesso con con la testa a taglio quindi per il giravite a taglio un'altra non nota dolente il center p il isolatore praticamente già bruciaciato e già cotto eppure va a vattaggi molto bassi con resistenza tranquillissima cittano a 0 30 quindi mi sembra il minimo a due alcuni a 50 60 watt insomma non sono mai andato oltre questi vattaggi questa betta corona non si è mai sapete ma dove si comprano questi pezzi ma dove si pigliano se in questa semplicissima scatola non ci stanno bugiardine non ci stai un indirizzo web non ci stanno un o meno produttore niente guardate qui ho preso il 25 io ho il 25 mm non il 30 ma secondo me è un atomizzatore che da qua ci si aspettava secondo qualcosa di più a livello qualitativo costruttivo ma personalmente è migliorabile molto migliorabile perché poi non è proprio di primo costo non hai 70 euro non mi sembra che sia proprio un atomizzatore io guardate per pulire questo pezzo essendo un atomizzatore a tang che offre un'ottima svapata e che diciamo ripeto offre quelle caratteristiche che possono essere di un buon atomizzatore da tripping però ci si aspetterebbe la possibilità di poterlo smontare meglio per pulirlo perché qua è un po' una tragedia qua di liquido e di condensa se ne va a iosa e insomma non è semplicissimo io l'ho smontato tutto ho tolto tutte le sue parti e mi sono trovato davanti una situazione non proprio spettacolare cioè non pulitissima non e poi il materiale questo benedetto materiale non è acciaio manco per niente perché con la calamita che adesso non mi ricordo eccola qua guardate un po' se ne viene con la calamita quindi vuol dire che è un materiale ferroso e non ci sta certamente la qualità che noi ci aspetteremo in un atomizzatore del genere questo per dire che cosa per dire che sì è vero eccezionale buono funzionava bene però ci sono alcuni componenti di questo benedetto atomizzatore che lasciano molto molto a desiderare a mio modo di vedere per carità ma non vorrei suscitare anche perché io non ce l'ho con nessuno anzi è un suggerimento che vuole dare altro ma più che altro io volessi e poi i pezzi di ricambio io vorrei comprare già l'isolatore vorrei comprare già questa corona per tenere la discorta non so a che cosa se lo sapete voi mettetemelo come commento così io ripeto io preferisco svapare cioè mi ha molta più soddisfazione svapare qua ok alzo le mani però gli atomizzatori molto semplici il quale un sub tank che è un atomizzatore di tutt'altro costo costa meno della metà sì un sub tank mini costa meno della metà esattamente e devo dire a corrido esce anche là nel sub tank mini che è un atomizzatore a tank per il vapo di polmoni esce ovodini di campi la basetta per rigenerare la tengo qua giustamente usa lo rigenere e ha delle prestazioni migliori rispetto alle testine oppure usa le testine sto dicendo scopetta da qua usa le testine già pronte per chi è pigro e non si vuole rigenerare ma pure quello offre quasi una svapata voglio dire un po' lontana evidentemente però però i materiali sono migliori è meglio con certe qualità di rame che subnetto vcmt a mio ma adesso per lì ripeto amici era solo per fare queste due ghiacci mi sono dilungato un bacione a tutti a presto fatemi sentire la vostra opinione non diciamo che cosa è un eccezionale vada a Dio sì in un momento vada a Dio però che potesse essere fatta pure un po' con me sì qua a Tritella chi ci voleva mettere un materiale in giù chi ci voleva mettere questo benedetto contatto di materiale sarebbe stato più gradito anche se poi lo pagavo 75 euro qualche euro in più perché poi queste cose costano veramente centesimi un bacione a presto con mesi studiosti guarda